ciao ragazzi e benvenuti in quest'ultimo video per quanto riguarda quest'anno vorrei fare tutti quanti voi auguri di buon anno questo video uscirà penso tre ore prima del mezzanotte quindi spero che mai possiate guardarlo o se non lo farete il giorno dopo sempre se sarete in grado di intendere di volere ma comunque vi auguro appunto buon anno spero che quest'anno sia migliore rispetto all'altro anche se sinceramente ci credo poco faceva aver assunto per quanto riguarda ciò che magari farò nel prossimo anno e cioè che comunque torneranno gli ignoranti dove faccio vedere cosa faccio mentre le quinte nella serie di marco tornano ovviamente anche dei gta in cui faremo appunto sempre cavolate e anche le mie live in cui farò il deficiente con voi parleremo insieme vi parlerò di varie cose come ad esempio il team smi dal prossimo capitolo di farming non farà più mod quindi cose del genere informazioni su vari attrezzi tra le altre cose insomma parlare un po di tutto con voi perché l'unico modo che ho per avere diciamo un contatto diretto appunto con i miei fans o con chi magari semplicemente mi conosce anche di persona e volentieri mi ascolta mentre sparo a cavolate e mi rendo sempre più incomprensibile dopo un po di ora inizio ad essere leggermente stanco di parlare quindi poi diventa una specie di diciamo ubriacone che non è capace di mettere due parole in fila in croce insomma quindi tornano appunto i video e per quanto riguarda la serie invece non lo so perché questa qua la reputerei chiusa non tanto perché ho fatto tutto quanto perché semplicemente mi sono reso conto che se vai avanti fai sempre le stesse cose non cambia nulla il problema principale è il fatto che tu passi non so compri il campo a il campo b cambi l'attrezzo a con l'attrezzo b questo e quello insomma è sempre quello alla fine non c'è nulla di nuovo è sempre quello alla fine cambia solamente i mezzi cambia solamente alcune cose ma la sorta sempre quella per ogni capitolo per ogni serie sempre quella quindi non so se magari cambierò la mappa da romani qualche altra parte cui ci sono più cose da fare più interessante ma riutilizzerò mezzi diversi queste cose qua come ti visto sulla serie usa e getta e quella lì non sono meno quando tornerà anche se sinceramente mi sono reso conto che trovo te vette tra molte molte virgolette più facile montare i video ignoranti perché alla fine materiale lì pronto da solamente sta lì a editarlo quindi rimuovere parti dove il problema di cavoli nostri dove ci sono parti in cui lo facciamo interessante ci sono le bestemmie vedo cosa c'è di bello da poter inserire nella puntata insomma tante cose che richiedono ore ma che comunque sono diciamo più semplici da fare rispetto a una serie perché la serie va pensata va diciamo preparata perché alla fine tu dietro le quinte devi preparare tutti quanti i campi devi fare in modo che tutto quanto sia pronto per l'episodio e anche quello richiede ore perché voi dietro quindici minuti non vedete quello che c'è dietro a alla puntata è appunto che è stato fatto durante e lì credetemi che è un bel casino ma per qualsiasi altro gioco ci sia altra cosa c'è vuole un sacco di preparare tutto quanto e quindi ecco non so se mai un giorno tornerà a fare una puntata o qualcosa ma al momento direi di no video ignoranti live e per me può anche bastare anche perché appunto vedo che soddisfa di più voi rispetto a me io far la serie si mi soddisfacevamo poi ho visto un attimino un po il tutto e insomma non mi comene fare le cose contro voglia per quanto riguarda invece il resto questo 2022 per me è stato un anno con alti e bassi ho potuto conoscere meglio certe persone ovviamente ho sempre avuto compagnia da parte dei miei amici ho fatto un sacco di cosa con loro un sacco di cavolate con altre persone invece appunto ho potuto fare più amicizia conoscere meglio passare bei momenti guardare film insomma fare tante cose molto belle e per questo ringrazio tutti quanti quelli che mi sono vicini i miei amici familiari tutti quelli che appunto sopportuno il mio carattere un po strano un po pazzo un po perverso e sono contento di verli attorno perché sono miei amici e questi altri poi amici che ho in giro sono persone molto gentili con me mi hanno sempre trattato molto bene ho avuto le sbaruffe con qualcuno ma è una cosa normalissima quindi li ringrazio appunto per la pazienza che hanno con me soprattutto per essermi appunto amici e quindi considerarmi parte della loro cerchia ecco e con loro condividono un sacco di cose alti e bassi brutte e belle notizie insomma di tutto e di più ecco quindi ringrazio tantissimo e ringrazio anche voi fans che mi seguite dai tempi di quando ho aperto il canale è stato agosto 2011 quindi sono 11 anni che il mio canale è aperto e continuerò per molto tempo fino a quando non mi romperò le balle dopodiché lascerò tutto quanto perdere ma attualmente non voglio buttare tutto quanto quello che ho fatto con fatica per niente ecco voglio che sia comunque un canale attivo che faccia sempre qualche visione che vi faccia ridere che vi faccia piacere vedere i miei video faccia piacere parlare con me quello che mi interessa a me questo i guadagni sì ok sono sempre buoni ma comunque cerco sempre di fare contenuti che siano decenti per quanto a eliminarvi sono un po una boiata ma come sapete molto bene faccio le cose un pochettino così come vengono lo stavano lì e programmare tutto quindi ecco mi ringrazio tutti quanti voi per il seguito fino adesso ringrazio i nuovi iscritti vecchi iscritti veterani insomma quelli che appunto mi conoscono un sacco di tempo mi raccomando passate tutti quanti voi un buon anno appunto con le persone che amate di più quelle che diciamo rendono e hanno reso i vostri anni migliori quelli che hanno andato a fare un sacco di cose belle e brutte che hanno sempre diciamo sostenuto hanno sempre voluto bene a voi così come siete con le vostre diciamo pazzie con i vostri pregi e difetti quindi mi raccomando tenetevele molto molto strette e chissà che quest'anno che prossimo anno appunto che arriverà sia decente anche se sinceramente vi sembrerà un solito anno di merda quindi io la mia l'ho detta per me ogni anno è sempre uguale c'è stato qualche cambiamento nel mio quindi sono orgoglioso di questa cosa qua sono veramente contento ma per il resto diciamo che non ho grosse pretese non ho grosse speranze quindi vediamo buon anno fate festone mi raccomando non bevete troppo bevete con la testa soprattutto non sprecate la vostra vita facendo cazzate voi se poi sbagliate sono cavoli vostri alla prossima buon anno ciao 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 Grazie a tutti.